Buongiorno da Edo, nell'ultima versione del Cyber Resilience Act, lo sapete, la legge europea per proteggere la supply chain software, c'è una definizione di open source, del software open source, che è stata notata da alcuni, è stata notata anche da Simon Phipps, che è uno dei nomi storici dell'open source mondiale, è uno che ha collaborato alla creazione del linguaggio Java, poi è seduto nel board di varie foundation open source in giro per il mondo, compresi la GNOME Foundation, la MariaDB Foundation e la Open Source Initiative. Ebbene, questa definizione va addirittura oltre quella della stessa open source initiative, ve la leggo, ve la leggo in inglese, ma secondo me si capisce abbastanza bene, vado lento. Qui la parola chiave, le parole chiave sono openly shared, quindi condiviso apertamente. E questa definizione, queste due semplici parole, sono in realtà includono tutto un mondo, sono molto preziosi per il movimento open source, per il software open source, perché le licenze classiche, anche quelle del free software, che sono naturalmente molto popolari, non insistono sul concetto della distribuzione, della condivisione del sorgente, ma il concetto è il sorgente del software deve essere rilasciato, deve essere consegnato a chi ne fa richiesta, qualora dovesse scaricare il binario. Quindi, se tu utente scarichi il binario di un software, o possiedi un device che include dei binari, tu puoi richiedere, hai il diritto di richiedere, secondo questa licenza, il codice sorgente a chi ti ha distribuito il binario. Invece, definire software open source, il software il cui source code è liberamente condiviso, liberamente distribuito, quindi liberamente accessibile, è proprio una definizione che va oltre. E invece mette un po' nei guai chi segue un modello open core, quindi chi ha il cuore open source del suo prodotto e poi intorno ci costruisce software, ci costruisce servizi closed, e poi non rilascia liberamente il codice del core. Ad esempio, quello che fa a Red Hat, l'accesso al source code delle sue distribuzioni Linux di REL, è un pochino più complicato, serve una registrazione, una richiesta, insomma, non è certo definibile openly shared. Insomma, questa definizione piace, piace all'open source initiative, piace a Simon Phipps, sta incontrando un po' di favore, e insomma, arriva da una legge europea, quindi dovremmo in un certo senso andarne fieri, no? O magari qualcuno per sbaglio ha scritto queste parole senza comprenderne le reali implicazioni, e invece hanno un'implicazione abbastanza forte, no? Quindi, identificare come open source qualcosa che è liberamente condiviso, liberamente distribuito, openly shared, è una mezza rivoluzione. E quindi la accogliamo con favore. Vado con un paio di news del giorno. Allora, oggi che è il 7 maggio, l'avrete sentito un po' tutti, la notizia di ieri è stata l'accordo, la divulgazione di questo accordo tra OpenAI e Stack Overflow. Vi leggo da Neowin, Stack Overflow ha annunciato una partnership con OpenAI, le due aziende vogliono migliorare i loro rispettivi AI utilizzando dati tecnici di Stack Overflow e collaboreranno in molte aree critiche per migliorare entrambe le piattaforme. Secondo questo nuovo accordo, OpenAI utilizzerà l'API di Stack Overflow per accedere a più di 15 anni di domande e risposte tecniche presenti sul sito e l'AI verrà anche programmata per attribuire le risposte direttamente ai corrispondenti autori su Stack Overflow. Inoltre, Stack Overflow userà il modello GPT di OpenAI internamente per costruire nuove feature. Un esempio è Overflow AI, che è un tool che migliora la ricerca sul sito con un'AI conversazionale. Le prime integrazioni derivanti da questa partnership ci si aspetta che saranno lanciate a metà del 2024, quindi fra pochi mesi. Insomma, questa in realtà è la notizia e non si sa nient'altro, praticamente non si sanno i dettagli di questo accordo, non si sa bene come sarà creata questa nuova AI. Stack Overflow in realtà aveva già lanciato una sua AI, ma il sentore comune mi pare che sia quello che questo accordo era inevitabile, perché i dati di Stack Overflow, i testi, le risposte, insomma tutto il contenuto di Stack Overflow fa già parte dei large language model di OpenAI, anche se non è stato ammesso direttamente, oltre a far parte di un sacco di altri modelli in giro per il mondo. E quindi se OpenAI vuole continuare a utilizzare questi dati senza dover fare battaglie legali, eccetera, un accordo andava trovato. L'hanno trovato diciamo in grande stile, cioè con una partner subufficiale che poi permetterà a Stack Overflow anche di creare dei propri tool. Però non si sanno gli accordi economici, non si sa quanto OpenAI pagherà a Stack Overflow, o quanto Stack Overflow pagherà a OpenAI per utilizzare i suoi servizi, insomma non si sa ancora niente. Molti utenti di Stack Overflow hanno chiesto lumi, dettagli su questo annuncio, Stack Overflow però ha per ora negato ulteriori spiegazioni, ha detto che siamo soltanto agli inizi e quindi non hanno ulteriori informazioni da condividere. Come si dice De Verge, Stack Overflow aveva fatto un accordo simile con Google a febbraio di quest'anno, dove Gemini for Google User, che è diverso da Gemini, il chatbot, poteva pescare direttamente da Stack Overflow per i suggerimenti di coding. E poi ci ricorda anche delle fluttuazioni dell'organico di Stack Overflow, perché Stack Overflow era cresciuta molto a livello di organico nel 2022, ma poi in ottobre aveva fatto un layoff, un grosso layoff, mandando a casa il 28% dei propri dipendenti. Non aveva divulgato delle ragioni per questi tagli, però era evidente insomma che il problema era proprio l'AI. Nel 2022 poi Stack Overflow, se vi ricordate, aveva bannato gli utenti, aveva fatto delle nuove policy che impediscono agli utenti di condividere, di scrivere risposte alle domande sul sito utilizzando chatgpt, cosa che poi in realtà è stata fatta da alcuni utenti che si sono poi anche scusati. Ma questo ci dovrebbe ricordare ancora una volta e ancora di più che i contenuti che noi creiamo ed elargiamo gratuitamente su queste platform poi in realtà diventano asset di queste platform che li riusano per monetizzare direttamente oppure indirettamente, arrivando ad esempio a accordi come questi, che nel caso di Stack Overflow penso che siano anche salvavita, nel senso che stava piuttosto arrancando, come si sa, e invece adesso potrebbero arrivare nuova linfa da accordi come quello con OpenAI e quello poi con Google Cloud. Attenzione anche al dettaglio tecnico dell'accordo che non prevede solamente che OpenAI faccia scraping dei contenuti di Stack Overflow come ha già fatto, come continua a fare, magari pagando una fissa, eccetera, no, ma prevede che Stack Overflow esponga una API, proprio una Overflow API, così chiamato, che OpenAI e gli altri LLM presumibilmente possono chiamare per accedere a quei contenuti, quindi immagino pagando proprio ad accesso, a volume, insomma, di dati scaricati. Quindi questo è il passo, il nuovo passo, il nuovo next step dell'integrazione con Stack Overflow, questa Overflow API che permette anche di monetizzare proprio sui propri contenuti. Ora vi do un paio di notizie che riguardano il mondo di Linux. La prima riguarda un tool che immagino tutti gli utenti Linux conoscano abbastanza bene, che è NeoFetch. NeoFetch è quel tool a righe di comando che serve per mostrare un logo in AshiArt della distribuzione che si sta eseguendo e poi una serie di informazioni prese, di dettagli tecnici presi dall'hardware e dal software, dal kernel, insomma, da tutto quello che può essere carino mostrare. Insomma, vi fa vedere i dettagli della vostra distribuzione, potete condividere il vostro desktop con gli amici e con i fans online facendo vedere che cosa avete sotto il cofano. Insomma, è un tool di vanity, possiamo definirlo. Insomma, questo era NeoFetch e NeoFetch è stato definitivamente archiviato, chiuso. Il reposito di GitHub di questo progetto è stato archiviato la scorsa settimana. Lo sviluppatore ha fatto capire che non ci saranno nuovi sviluppi, è finita qui. Tra l'altro, l'ultimo commit su NeoFetch era arrivato nel 2020, quindi, insomma, ci se lo aspettava, era abbastanza chiaro che il progetto era finito, era morto. E quindi si guarda ora alle alternative a NeoFetch, che ci sono, oltre naturalmente a tutti i cloni, a tutti i fork di NeoFetch stesso, ci sono anche degli altri tool che possono essere usati. Uno, per esempio, ho menzionato da OMG Ubuntu, è HighFetch, che è anche lui un fork di NeoFetch, ma è attivamente mantenuto, ed è anche nei reposito di Ubuntu 24.04, quindi se fate apt install HighFetch, scritto HYFetch, ecco, lo installate, lo potete usare, ed è abbastanza simile a NeoFetch, insomma, avete un replacement drop-in. E un po' tutta la community Linux sta parlando della fine, della chiusura di NeoFetch, itsfoss ci propone un'alternativa diversa, che è FastFetch. FastFetch è un'alternativa più veloce, dice anche il nome, no? FastFetch. È più veloce di NeoFetch, è scritto in C, e poi, insomma, vi dà le stesse cose, fondamentalmente le stesse informazioni, vedete qua, uno screenshot di NeoFetch. Quindi, come capite, insomma, avete una pletora di scelte, a cui potete attingere per rimpiazzare il caro vecchio NeoFetch, che a questo punto possiamo salutare definitivamente. Ora vi torno a entro news sul mondo Linux, però un pochino più a basso livello, e parlo di un comando che dovrebbe rimpiazzare sudo. Sapete, sudo è il classico comando per eseguire dei processi con privilegi di root? Ebbene, systemd, che, posato che conoscete tutti molto bene, il limit system delle distribuzioni Linux, ecco, nelle nuove release rimpiazzerà sudo con appunto questo runzero, che è un tool che ha delle differenze con sudo che lo rendono più sicuro. Infatti, per eseguire i processi con privilegi di root, sudo è un binario che ha il setuserid, il suid, che è un flag che consente, che dice al sistema operativo, di eseguire quel binario con i privilegi dell'utente che l'ha creato, e non con i privilegi dell'utente che lo sta eseguendo. E questo fa sì appunto che sudo sia sempre eseguito con i privilegi di root. Questo è potenzialmente un problema di sicurezza, perché naturalmente allarga la superficie, la famosa attack surface, no? Ebbene, Systemd, o meglio, il suo creatore, che è Lennart Pottering, ha appunto annunciato questo nuovo comando che si chiama runzero, e runzero funziona prendendo la richiesta dell'utente, mandandola a Systemd, il quale crea uno pseudo-terminale con cui poi si interfaccia con il terminale, quindi con il TTY, aprendo uno streaming a due vie dei dati, un po' come fa SSH, no? Più o meno si comporta nello stesso modo di SSH, l'ha detto anche lo stesso creatore, però SSH poi ci aggiunge una serie di cose criptografiche, qua su runzero non ci sono, però il funzionamento è abbastanza simile. Quindi questa dovrebbe essere, diciamo, l'idea di base che porterebbe a rimpiazzare sudo con runzero. Ora, il creatore di runzero non si aspetta una immediata adozione da parte di tutti, però dice che questo concetto è molto più sicuro, molto più moderno rispetto a sudo. E chissà, potremmo vedere anche una adozione un pochino più vasta. Non è ancora stato rilasciato ufficialmente perché è nella RC di SystemD256, ma siamo a poche RC dalla release finale, quindi insomma, fra breve arriverà un'implementazione stabile di runzero. E quindi insomma, poi vedremo cosa faranno le distribuzioni che utilizzano SystemD, se consiglieranno o passeranno gradualmente da sudo a runzero, oppure se rimarrà insomma un progetto soltanto limitato a SystemD. Comunque, il funzionamento tecnico alla base è abbastanza interessante. Vi do come sempre in chiusura due link, il primo lo trovo su The Arcade Blogger, si intitola Atari's Mike Jung, ed è un post proprio che ripercorre la carriera di Mike Jung, che era un designer industriale in Atari. È scomparso qualche tempo fa, e in questo post trovate, oltre a un sacco di aneddoti, di informazioni insomma, anche un sacco di foto, un sacco di immagini, dai disegni iniziali, ai prototipi, a poi i cabinati finali, sto parlando di roba storica, come Missile Command, o il cabinato di Star Wars, che era fighissimo, gigantesco, o i cabinati, quelli con il volante, il sedile, le marce, insomma, con i simulatori di guida. Insomma, è piuttosto figo, piuttosto ben fatto, anche visivamente molto accattivante, quindi ve lo consiglio, Atari's Mike Jung, su The Arcade Blogger. E poi, il secondo link che vi do è abbastanza terrificante, si intitola come un bucket S3 vuoto può fare esplodere il vostro conto AWS, e racconta della disavventura di questo sviluppatore, che si è trovato appunto una fattura da 1300 dollari da AWS, perché aveva semplicemente lasciato aperto, senza però niente dentro in realtà, un bucket S3, e a un certo punto, qualcuno, per qualche motivo, ha iniziato a fare un sacco di richieste a questo bucket, alla fine del mese, si è trovato con questo conto. Lui nel blog post spiega il motivo, perché sono iniziate queste richieste, che è stato un errore umano, ma in buona fede, quindi non un attacco proprio, però un errore in buona fede, però può essere anche questo errore sfruttato davvero, per fare invece un attacco con conseguenze, come vedete, piuttosto care, e poi alcune lezioni, e alcuni consigli, per non incappare nello stesso disatto, insomma. E quindi consiglio a tutti quelli che hanno bucket S3, di leggerselo, di imparare queste lezioni, e provare a non ripetere questa esperienza in futuro. Ho finito qui, grazie per avermi seguito anche oggi, vi ricordo che se volete scrivermi tranquillamente, anche in privato, mi trovate su LinkedIn, ma anche su Mastodon, insomma, edo at continuousdelivery.social, mi trovate lì, potete scrivermi quello che vi pare, e noi ci vediamo a un prossimo buongiornissimo, fate bravi, leggete i link di oggi, mi raccomando, che sono importanti, e basta, ci vediamo, grazie, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.